Benvenuti sul mio canale tutto dal web Giuseppe Garibaldi durante una puntata del grande fratello come lo sappiamo si è sentito male e ha dovuto temporaneamente lasciare la casa di Cinecittà ma come sta ora il GFino? Il concorrente ha dovuto lasciare la casa per andare in ospedale aveva momentaneamente perso i sensi e per questo motivo i fan di casa e i conquilini si sono preoccupati ma la stessa Rosy Cine ha tranquillizzato gli ascoltatori la GFine infatti stava parlando con Federico Massaro riguardante proprio le condizioni di Giuseppe e sembra che quest'ultimo si stia riprendendo molto bene mangia diceva Rosy parla si alza da solo dal letto stanno facendo gli ultimi accertamenti ma sembrerebbe essere tutte ok queste le parole di Rosy infatti pare infatti ragazzi che a breve potremmo rivederlo rientrare nella casa più spiata d'Italia lo stesso fratello di Garibaldi Nicola infatti ha rassicurato tutti con un messaggio scritto sul suo profilo Instagram arriva poi anche il commento di Beatrice Luzzi che salutando pubblicamente il conquilino dice ciao Giuseppe dai che torni lunedì tornerai ed è molto probabile che Giuseppe Garibaldi torni in gioco proprio in queste ultime ore soprattutto perché oggi è attesa la puntata del grande fratello lunedì 5 febbraio dimmi tu cosa ne pensi lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale grazie a tutti